Dal 1866, la trattoria albergo Fratelli Martina in centro a Chiusaforte, un ospitale paese immerso nella Val Canale, accoglie i suoi ospiti in sale intime e curate nei minimi dettagli. Il classico cabinetto friulano offre l'opportunità di gustare un buon vino, consigliatovi dal padrone di casa Roberto, seduti intorno al fuoco e di decidere con calma quale sarà il piatto tipico della cucina friulana che la chef a Maria Grazia preparerà per voi con amore e professionalità. Vi sembrerà di essere fra amici ed in effetti lo sarete. Trattoria albergo Fratelli Martina in via Roma 38 a Chiusaforte, aperti a pranzo e a cena, chiuso in la martedì ed il mercoledì. Telefono 0433 52161 oppure 0483 5214. Info chiocciola albergobartina.it Trattoria Fratelli Martina, il vero amore per la cucina d'autore.